Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale, io sono Riccardo e come sapete qui parliamo di tecnologia spiegata in modo semplice e comprensibile per tutti. Nel video di oggi siamo insieme per una nuova recensione di un robot aspirapolvere lavapavimenti. Il modello in questione si chiama Narwhal Freo X Plus. La marca è nuova, appena arrivata in Italia, anche se in realtà è abbastanza famosa in America. I modelli lanciati sul mercato italiano dall'azienda sono due, c'è questo più economico che andremo a recensire e c'è anche il modello più costoso con stazione di svuotamento automatica e chiaramente lavaggio dei pannetti. La sto testando e presto arriverà anche la recensione di quel modello. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo con la recensione di questo dispositivo più economico. Come di consueto, solita premessa prima di cominciare, il prodotto viene inviato all'azienda per una recensione ma come sapete vi dico sempre quello che penso. Se un prodotto mi piace ve lo dico, se non mi piace ve lo dico lo stesso modo perché non vi devo vendere niente. E adesso, prima dell'unboxing, lasciate il solito like di incoraggiamento e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Detto questo, passiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Dove troviamo il robot, la sua basetta di ricarica, le istruzioni, il cavo di alimentazione, due pannetti lavabili e due usa e getta per lavare i pavimenti, due sacchetti usa e getta per raccogliere la polvere e un tappetino di plastica da posizionare sotto la base di ricarica. Insomma, una confezione davvero molto ricca. Per quanto riguarda il design, questo robot è molto simile ai concorrenti, con una forma circolare e una torretta LiDAR nella parte superiore. Le dimensioni sono simili ai concorrenti e pari a 35x35,5x10,7 mm. Purtroppo non passa sotto il mobile basso della mia sala e ci sbatte contro. Ottimi i materiali e l'assemblaggio, al pari dei top di gamma. Il colore è bianco lucido, bello e moderno, ma evidenzia molto eventuale polvere o sporcizia che si deposita sul robot. Nella parte superiore troviamo un solo pulsante che permette di interagire con il robot e avviare le pulizie, oltre alla torretta LiDAR. È poi presente una copertura in plastica magnetica che, una volta sollevata, ci permette di accedere alla vaschetta della polvere, da ben 480 ml. In realtà arriva fino a un litro, ma ne parleremo a breve. Aspetto importante da segnalare, possiamo sostituire la vaschetta in plastica con dei sacchetti usa e getta, particolarmente indicati per chi soffre di allergie. Oltre alla vaschetta della polvere troviamo poi quella dell'acqua, da 280 ml, utile per tenere bagnato il pannetto durante il lavaggio dei pavimenti. Nella parte inferiore abbiamo i sensori anticaduta e quelli per i tappeti, due spazzole laterali che raccolgono lo sporco e lo convogliano verso il rullo centrale. Da notare che le spazzole sono a due punte e non a tre, al contrario dei concorrenti. Abbiamo poi il rullo in gomma e setole morbide, che riesce ad evitare correttamente la formazione di grovigli di peli e capelli, e risulta perfetto anche per le case con animali domestici. Segnalo inoltre che il rullo non è posizionato al centro del robot, ma leggermente spostato verso destra, per migliorare la raccolta della polvere. Abbiamo poi le due ruote gommate, per salire su piccoli gradini fino a 2 cm, e il pannetto di lavaggio dei pavimenti, collegato al robot tramite attacco magnetico. Frontalmente poi abbiamo il bumper ammortizzato e i sensori per la mappatura della casa e il rilevamento degli ostacoli. E parliamo adesso della mappatura della casa. Lui infatti utilizza una tecnologia chiamata LiDAR SLAM 4.0 a triplo laser con sensori di luce strutturata. Tutto questo gli permette di creare una mappa molto dettagliata della casa e di seguire un percorso di pulizia ottimale anche al buio o con poca luce. La prima mappatura è stata molto veloce, in 9 minuti ha suddiviso correttamente tutte le stanze, senza sbagliare. In caso di errori comunque possiamo modificare la mappa tramite l'app. Nemmeno lui ha riconosciuto lo specchio della camera da letto, trasformandolo in una seconda stanza che in realtà non esiste. Ad ogni modo nessun robot è ancora riuscito a riconoscere correttamente lo specchio. La mappa che viene creata non solo è molto precisa, ma è sia 2D che 3D, e possiamo inserire i mobili, i tappeti o personalizzare addirittura il tipo di pavimento, tutte funzioni che solitamente troviamo su robot molto più costosi. Dall'app possiamo gestire più mappe e piani. Per quanto riguarda la navigazione all'interno della casa, lui in generale si comporta molto bene, soprattutto in questa fascia prezzo, dove la concorrenza spesso è meno affidabile. La navigazione è sempre precisa e veloce, i percorsi che segue sono lineari e non si blocca mai su nessun ostacolo. Si sposta rapidamente all'interno della casa e segue sempre percorsi intelligenti e ottimizzati, sicuramente promosso da questo punto di vista. Ho però notato che, anche se molto raramente, capita che lui esca dal suo tracciato e vada in un punto a caso sulla mappa, resta lì un paio di secondi e poi riprende la pulizia. Sempre molto raramente capita che si fermi per 15 o 20 secondi in un punto, per poi riprendere la pulizia come se niente fosse. Tramite l'app possiamo poi scegliere tra due livelli di precisione, uno standard per la pulizia quotidiana e uno meticoloso per i pavimenti molto sporchi. Parlando del tempo di pulizia, impiega circa 53 minuti per lavare e aspirare 60 metri quadrati in modalità standard, mentre il tempo raddoppia in modalità meticolosa. In generale, i tempi di pulizia sono nettamente più ridotti dei concorrenti e questo robot è veramente velocissimo. Molto buono anche il rilevamento degli ostacoli. Prima di muri, battiscopa e mobili grossi rallenta e riconosce correttamente quasi tutti gli oggetti che trova lungo il percorso, tranne quelli più bassi. Ha superato il test delle scarpe e delle ciabatte, ma non quello dei calzini o dei cavi più sottili che sono stati aspirati. Nessun problema con le gambe delle sedie sotto al tavolo, nemmeno con quelle trasparenti. Le aggira dopo averci sbattuto un po' contro, non vede le porte trasparenti in vetro e non evita i piedini del mio divano, anche se si accanisce su di essi molto meno dei concorrenti. Per quanto riguarda l'aspirazione, aspetto molto importante per tutti i robot, lui ha una potenza massima pari a 7800 Pascal, che senza dubbio è la più elevata nella sua fascia prezzo, quasi il doppio dei concorrenti. Tramite l'app possiamo scegliere 4 livelli di potenza aspirante e durante i vari test si è comportato sempre bene, ma non perfettamente. Raccoglie tutto lo sporco che si trova lungo il suo percorso e lungo i bordi del muro, anche grazie alla funzionalità dedicata, che richiede più tempo per la pulizia ma aspira un po' meglio i bordi. In generale non ho riscontrato nessun problema con la sporcizia quotidiana come polvere, briciole, peli o capelli. Ha invece faticato molto di più negli angoli, dove ha lasciato indietro un po' di riso e avena che ho seminato ad arrivare i test. Faccio notare comunque che per avere gli angoli aspirati alla perfezione bisogna passare a prodotti molto più costosi, arrivando a spendere almeno il doppio e in generale lui è risultato il migliore in questa fascia prezzo. Purtroppo le sue spazzole laterali ruotano abbastanza forte, con il rischio di sparare in giro per il pavimento e le briciole. Come per i concorrenti dunque consiglio di farlo passare un paio di volte quando aspiriamo la cucina o zone particolarmente sporche. Riconoscele automatico i tappeti, quando li incontra solleva automaticamente il panetto posteriore fino a 9 mm e aumenta al massimo la potenza di aspirazione. Purtroppo ovvero nell'app non ho trovato una funzione dedicata ai tappeti, ad esempio per scegliere se aspirarli o evitarli completamente. Come anticipato questo robot non ha una base di svuotamento automatico, ma in compenso sfrutta una tecnologia innovativa e unica che permette di comprimere la polvere raccolta direttamente nella sua vaschetta. Quando torna alla sua basetta di ricarica dopo ogni pulizia, lui avvia una compressione dell'area che dura circa 2-3 secondi ed è quindi velocissima che in pratica va ad aumentare la capienza della sua vaschetta da 480 ml a 1 litro. Non vi nascondo che mi sembrava incredibile, ma vi posso garantire che effettivamente questa tecnologia funziona e concretamente questo ci permetterà di svuotare la sua vaschetta ogni 6 o 7 settimane, contrariamente a tutti i concorrenti che solitamente vanno svuotati ogni settimana o al massimo ogni 2. Questa è veramente una grandissima comodità perché di fatto anche se lui non ha una stazione di svuotamento automatico è quasi come se l'avesse, con un enorme vantaggio però in termini di costi e di spazi perché non dovremo posizionare una grossa base di svuotamento all'interno della nostra casa. E questa, non ve lo nascondo, è veramente una gran figata. Per quanto riguarda invece il lavaggio dei pavimenti, devo dire che lui non effettua un vero e proprio lavaggio ma si limita a trascinare un panno umido sul pavimento che fa una pressione di 6 N sulla superficie. Contrariamente ai modelli dotati di mop rotanti, il pannetto riesce a rimuovere solo le macchie più piccole e superficiali e non va utilizzato su superfici troppo sporche o su liquidi abbondanti, altrimenti rischierebbe di trascinarsi dietro lo sporco. Penso che il suo sistema di lavaggio vada bene per una pulizia quotidiana, giusto per dare una rinfrescata ai pavimenti e per eliminare le macchie più superficiali, niente di più. Per effettuare un lavaggio approfondito bisogna passare a modelli molto più costosi oppure usare il classico mocio e olio di gomito. Va comunque detto che lui è quasi l'unico in questa fascia prezzo ad offrire un pannetto che fa pressione sul pavimento e che può anche essere sollevato fino a 9 mm, quindi anche qui fa meglio dei concorrenti diretti. Dall'app possiamo selezionare tre livelli di utilizzo dell'acqua in base alle necessità e in generale la quantità di acqua non è mai eccessiva nemmeno per il parquet. Segnalo infine che al contrario dei concorrenti il pannetto viene bagnato in modo uniforme grazie alla presenza di quattro ugelli mentre i concorrenti solitamente ne hanno solo uno o al massimo due. In questo modo abbiamo una pulizia migliore e senza strelature sui pavimenti. Per quanto riguarda la rumorosità, lui emette un rumore massimo pari a 71 dB assolutamente in linea con i concorrenti. Quando invece torna alla base per comprimere l'aria all'interno della vaschetta della polvere emette un rumore massimo di 58 dB per massimo 3 secondi. Chiaramente è disponibile l'applicazione per Android e iOS. Le funzioni a nostra disposizione sono tantissime e ad esempio possiamo scegliere se lavare, aspirare o entrambi. Possiamo selezionare le stanze o le aree da pulire, modificando i parametri per ogni stanza. Possiamo scegliere il livello di potenza o di acqua, se far passare il robot una o due volte nell'area, impostare il livello di precisione, vedere e modificare la mappa, vedere il registro di pulizia, programmare la pulizia, vedere lo stato di usura degli accessori e dei componenti, impostare una sequenza di pulizia, aggiornare il firmware, usare i comandi manuali o attivare la modalità bambini o non disturbare. Il robot restituisce risposte vocali in italiano e lo possiamo collegare anche ad Alexa. Interessante segnalare che dall'app possiamo attivare la modalità Freo Advice. Lui in pratica studia il registro di pulizia, analizza i pavimenti, le stanze e il loro livello di sporco e decide in autonomia la potenza di aspirazione e il livello di acqua da usare. È una funzione utile che permette di pulire tutta la casa in un click, ma sinceramente io ho sempre preferito impostare i miei parametri in ogni stanza manualmente. Parlando di autonomia e batteria, lui monta una batteria da 5200 mAh, quindi pari a tanti altri concorrenti. Secondo l'azienda, questa batteria dovrebbe garantire un'autonomia pari a 210 minuti, ovviamente in sola aspirazione al minimo della potenza. E vi posso garantire che questa autonomia è effettivamente reale. Questo gli consente di essere il robot con la migliore autonomia in assoluto, non solo in questa fascia prezzo, ma anche rispetto ai top di gamma. In base ai miei testi infatti questi tempi sono rispettati, anche se chiaramente aumentando la potenza di aspirazione e utilizzando anche il lavaggio, l'autonomia scende. Per darvi un'idea dei consumi, lui ha usato il 10% di batteria per lavare e aspirare a potenza 2 su 4 un'area di 60 m² in 55 minuti. In modalità meticolosa, invece, ha impiegato un'ora e mezza e il 25% di batteria per la stessa operazione. Chiaramente se si scarica durante le operazioni di pulizia, torna alla base, si ricarica e riprende dove aveva interrotto, e la ricarica completa richiede circa 4-5 ore. Anche questo in linea con i concorrenti. Per quanto riguarda il prezzo, lui costa 399 euro, ma in questo periodo lo potete acquistare in sconto a soli 329 euro. E chiaramente vi lascio qua sotto il link per l'acquisto. E dopo il prezzo, come di consueto, siamo alle conclusioni. Senza dubbio questo Narwal Freo X Plus è un ottimo robot aspirapolvere lava pavimenti. Sicuramente uno dei migliori sotto i 400 euro e da comprare ad occhi chiusi a 329, perché offre un rapporto qualità-prezzo-prestazioni veramente incredibile. Ok, non è perfetto, alcune cose possono essere migliorate, ma di nuovo, se acquistato a 330 euro, è veramente una bomba. A questo prezzo, infatti, vi portate a casa un robot bellissimo, ben fatto e ben assemblato. Molto più potente di tanti concorrenti, ma anche di alcuni top di gamma. Con una batteria infinita, molto intelligente nella mappatura della casa e nella navigazione, in grado di comprimere la sporcizia e di contenerla fino a 7 settimane, un record, e con una spazzola anti-groviglio che funziona davvero, ed è perfetta per le case con animali domestici. Soffre un pochettino negli angoli e nel lavaggio, ma sinceramente in questa fascia prezzo è quasi impossibile trovare dei concorrenti che fanno di meglio. L'unica alternativa che mi viene in mente è il nuovissimo Xiaomi X20 Plus, appena arrivato sul mercato, che effettivamente lava meglio, ma ha meno potenza di aspirazione e comunque offre una basetta dedicata per lo svuotamento automatico e il lavaggio dei mop, quindi è un po' più completo. Sinceramente però non l'ho ancora provato personalmente e quindi non mi posso esprimere a riguardo. In tutti i casi questo Narwhal Freo X Plus resta senza dubbio un ottimo robot aspirapolvere lavapavimenti, soprattutto se trovato a 330€. Detto questo io concludo con la recensione, se vi è piaciuta o stata utile come al solito lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un commento qua sotto se avete qualsiasi dubbio o domanda, io come sapete rispondo a tutti il prima possibile. Vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao da Riccardo